Vergani scalpita, forse un turno di riposo all'Escano. Assai verosimile dunque l'utilizzo dell'ex Inter al centro dell'attacco. A metà campo più che probabile il ritorno tra i titolari di Salvatore Aloi, che domani festeggerà le 26 primavere. Potrebbero essere queste le novità sostanziali dell'impegno col Messina in programma domenica all'Adriatico con inizio alle 15. Finora in campionato solo due presenze dal primo minuto per l'ex capitano dell'Avellino, a causa di un problema al legamento collaterale che lo ha costretto ai margini nelle prime sei gare della stagione. Infortunio alle spalle. Al debutto da titolare lo scorso 18 ottobre, Aloi ha lasciato subito il segno con un gran gol sinistro-destro di ottima fattura contro il Giuliano, proprio all'appartenio Lombardi di Avellino. Calciatore di sostanza e temperamento, Aloi sottolinea le grandi potenzialità tecniche e morali del gruppo e rivolge lo sguardo al confronto con Messina. Sarà quasi derby per il centrocampista biancozzurro nato a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria. Sì, sì, assolutamente. Io sono dall'altra parte del mare, però ovviamente io, come dicevo prima, conosco un pochettino il mister Auteri. Dobbiamo avere tanta pazienza con la testa, la dobbiamo spuntare perché sono tre punti fondamentali, però dobbiamo un attimino capire come si mette l'avversario e poi fargli male il prima possibile. Ho trovato un gruppo sano che è difficile trovarlo in tante piazze di Serie C e sono davvero contento perché è un gruppo di bravi ragazzi. Certo che può, deve anzi ambire a grandi obertivi anche perché siamo partiti bene. Ovviamente non ci dobbiamo rilassare, che quando magari si sta in quelle posizioni uno tende magari a rilassarci e questo non ce lo possiamo permettere perché il girone C in due o tre partite magari torni un attimino indietro in classifica. Dobbiamo continuare su questa scia. Dobbiamo continuare su questa scia.